E URCA BILURCA a tutti, quarto e penultimo incarico di questi incarichi di Jonesy Oscuro Andiamo a completare la missione di distruggere il nucleo bislacchissimo di corruzione Tutti i frammenti di corruzione, esattamente qui come potete vedere c'è praticamente un pinghello Che noi adesso andiamo a vedere, dunque eccoci qua, andiamo appunto a vedere cosa si c'era in questa location esatta Ah, ma lol, sono comparsi dei frammenti ragazzi, attenzione, vediamo un po' cosa dobbiamo fare con questi frammenti Credo distruggerli e basta, quindi 1, 2, 3, eh ma se riformano, 4, vediamo se, ah ok, perfetto Distrugge il nucleo di corruzione e tutti i frammenti di corruzione, ok, uno l'abbiamo distrutto dunque In teoria ce ne dovrebbe essere un altro, vediamo, ah ok, sempre qua mi da Oppure no, probabilmente dobbiamo in questo caso farlo due volte, distruggere appunto tutti questi tre frammenti più volte Dunque andiamo qui ragazzi che è molto vicino praticamente, esattamente in questa location esatta 160 metri, ci vediamo quando siamo appunto lì Perfetto ragazzi, eccoci qua, vediamo se compaiono i frammenti super bislacchi Vediamo un po' se compaiono, uh, ah vedi, vedi, dovevamo prima probabilmente ammazzare il nucleo Questo era il nucleo di corruzione, quelli là invece erano i frammenti, a posto ragazzi Dunque, venite appunto qui, distruggete tutte queste belle robe Vabbè, in questo caso però, a quanto pare, si può fare anche prima di distruggere i frammenti e poi il nucleo Vabbè, ci sta, ci sta, ci sta Dunque ragazzi, questa è la missione, missione veramente semplicissima Ci vediamo tra pochissimo con l'ultima, l'ultimo video guida ragazzi Dopodiché, basta, ci vediamo un po' di stasera in live alle 21.30 su Dead by Daylight Ciao ragazzi, a tra pochissimo con l'ultimo video guida Dei ricarichi del Giosi Oscuro